A meno di due mesi dal podio olimpico di Rio, Sandro Campagna, CT del Settebello, non nasconde qualche rimpianto. L'intervista è di Dario Di Gennaro. È bronzo! È bronzo olimpico per il Settebello! Il Settebello torna sul podio dopo quattro anni! Bronzo olimpico, bronzo come un oro al momento, bronzo amaro due mesi dopo. È un successo, parliamoci chiaro, è un successo perché comunque non è mai facile vincere una medaglia olimpica. Deve restare assolutamente un amare in bocca perché la medaglia di bronzo è bella, durerà due o tre mesi, la medaglia d'oro dura tutta la vita, per cui ci deve essere sempre quella emozione, quella voglia di vivere una felicità unica, che la puoi avere quella felicità solo se per quattro anni ti fai un mazzo incredibile. A Rio la semifinale persa con la Serbia ha lasciato il segno, crinale insidioso nell'avventura a cinque cerchi. Il momento più difficile è stato cercare di assorbire la sconfitta con la Serbia prima di una medaglia di bronzo perché si poteva correre il rischio di tornare a casa senza medaglia dopo aver fatto comunque un brillante percorso olimpico. All'alba del nuovo quadrienne olimpico, Sandro Campagna rilancia la sfida per Tokyo. Da questo campionato, più gli altri tre che ci separano da Tokyo, voglio vedere sempre un maggior numero di giovani che emergano in maniera tale da poter garantire un ulteriore ricambio. Le ricordiamo naturalmente anche il...